ciao benvenuto nel nuovo corso dedicato ai pacchi batterie litio celle litio 18 650 21 700 allora intanto facciamo una premessa un corso che ti aiuterà a capire il mondo di assemblaggi delle batterie litio che sia che siano 18 650 21 700 26 650 o anche quelle slim quelle diciamo a sacchettino è indifferente importante capire la tecnica importante capire il come fare che poi alla fine lo puoi andare a giustare in base alle tue esigenze il futuro oggi qual è il futuro è questo il futuro è pacchi batterie batterie ricaricabili lo vedi lo vedi ovunque lo vedi nelle auto elettriche lo vedi negli scooter elettrici nei monopattini negli elettroutensili ormai nessuna nessun produttore fa più elettroutensili col filo tranne in casi particolari anche gli espirapolveri sono tutte a batteria ma quali batterie batterie a litio perciò io oggi ti sto parlando del futuro che se tu hai pazienza voglia di imparare potrai andare a capire studiare applicarti in un settore che da qui a poco esploderà e farà posti di lavoro diventare oggi tecnico specializzati in questo settore cioè nella riparazione di pacchi batterie vale quel che vale questo corso l'ho fatto diciamo articolato forse un po lungo però ti spiego tutto quello che c'è da sapere perché ho necessità di aumentare sia la corrente di spunto di uscita del pacco batterie un tester se vuoi farlo manuale come ho fatto io perché quando recuperi delle celle per esempio questa nello specifico è una cella ricondizionata ma nel fatto concreto se vai a testarli quali test devi fare io non l'ho inserito in un pacco batterie di una bici elettrica per capirci e facciamo la formula b fratto i uguale r se tu trovi una 29 e non di questo colore non è originale perché uno che consuma un'energia persa perché il caricabatterie da energia lui la recupera però la smaltisce in calore una bms da 25 ampere tu che hai acquistato il corso hai già un fascicolo perché ti è stato inviato sul fascicolo troverai cosa troverai un riassunto di tutto quello che vedrai e sentirai nell'esempio è un xt 60 calcolatrice alla mano così da poter fare tutti i calcoli i pacchi batterie si possono assemblare sia così guaina termoretraibile che si rompe non tanto facilmente abbiamo ora dimostro quale abbiamo questa è una delle migliori in assoluto in questo momento sono delle samsung 3.500 milliamper ora solo in in Grazie.